La vittoria della Triestina è sfumata nei secondi finali del match contro Feralpi Salò. La Triestina ha trovato il vantaggio di testa con De Luca, ma viene raggiunta proprio alla fine dagli avversari. Una partita viva e piena di intensità da ambo le parti. L'unione parte con Offredi tra i pali, poi il trio difensivo Lopez, Ligi e Negro. A centrocampo, Procaccio con Giorico e Crimi e Galazzi e Rapisarda sulle fasce. Gomez e De Luca compongono l'attacco. E proprio con De Luca la Triestina parte bene, con l'occasione del quindicesimo minuto, dove l'attaccante non riesce a deviare bene la sponda di Ligi. Gli ospiti rispondono con Guerra, che calcia a lato sull'uscita di Offredi e poi Carraro cerca di spaventare il portiere all'abbardato con un tiro da fuori. La Triestina risponde colpo su colpo, con sinistro al volo di Galazzi, parato da Gelmi. L'episodio chiave, proprio alla fine del primo tempo, De Luca devia in rete un colpo di testa di Rapisarda, ma l'assistente segnala un fuorigioco. In avvio della ripresa, il primo acuto arriva dagli ospiti, con Guidetti, che tira in porta con successiva parata di Offredi. All'undicesimo minuto, spunto di Galazzi, ma Rapisarda sciupa l'occasione. Il gol della Triestina arriva al minuto 33, punizione di Galazzi incornata a Vincenti di De Luca. Nel recupero la Feralpi resta in 10 per espulsione di Pisano, ma con Spagnoli trova il pareggio appoggiando in porta la palla da un cross dalla sinistra. Un punto amaro per la Triestina che già immaginava la vittoria in tasca.